Ciao, sono Saverio del collettivo Paolo Bermenu e sono qui per parlarvi del nostro nuovo progetto discografico. Progetto discografico che vede il protagonista la New Wave, quindi sì, sarà un disco di cover riarrangiate e interpretate, guidati dalla produzione artistica di Paolo Bermenu. Come potete aiutarci nella realizzazione di questo nuovo disco? Andando su Produzioni dal basso e selezionando una delle ricompense che abbiamo scelto per voi. Grazie al vostro aiuto potremo arrivare al tetto massimo scelto appunto per finanziare questo nuovo progetto che è di 3.000 euro. Quindi vi ringrazio già da ora e vi invito ad andare su Produzioni dal basso. Adesso lascio la parola a Paolo Bermenu per il comunicato del progetto. Il progetto al quale vi chiediamo di aderire è semplice. Noi vorremmo registrare un disco che si chiama delle inutili premonizioni volume 2. Un disco, sì, che è il secondo episodio di una narrazione transgenerazionale. Circa un anno fa infatti è uscito delle inutili premonizioni volume 1. Quel disco era focalizzato sulle intuizioni a nostro parere migliori dei Paolo Bermenu ed era nudo con registrazione solitaria e notturna. delle inutili premonizioni volume 2. A cui vi chiediamo di partecipare è invece un disco di brani non nostri. registrato in autonomia. Sono tutti brani però che sono stati folgorazione di intuizioni carburanti di idee per me e per i miei compagni. Sono brani non nostri, vero, e cronologicamente antichi ma che riprendono vita assoluta nell'insensatezza del riproporli. Sono brani che rispondono a queste domande. Che cosa ci parla nel bel mezzo dell'inquietudine? Che cosa ci turba nell'insicurezza di oggi? chi e cosa ci parlerà in futuro? Voi ci aiutereste a far parlare il passato, il presente, il futuro e a renderlo infinito presente, ad essere. Questo è il nostro impegno e ci auguriamo possa essere anche il vostro. Dare forma insieme ad una metamorfosi, ad una apocalisse gentile. Sostenere questo progetto significa anche sostenere un pensiero comune, un pensiero ostinato, di divergenza, di fragilità e intriso di astrazione. Insomma, realizzeremmo insieme un desiderio vostro, nostro, vostro. Noi cerchiamo di resistere ed insistere perché siamo il collettivo Paolo Benvenu e trasmettiamo l'invisibile.